Sabato della sesta settimana di Pasqua Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli In verità, in verità io vi dico Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome Egli ve la darà Finora non avete chiesto nulla nel mio nome Chiedete e otterrete Perché la vostra gioia sia piena Queste cose ve le ho dette in modo velato Ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato E apertamente vi parlerò del Padre In quel giorno chiederete nel mio nome E non vi dico che pregherò il Padre per voi Il Padre stesso infatti vi ama Perché voi avete amato me E avete creduto che io sono uscito da Dio Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre Commento al Vangelo del giorno di Papa Francesco L'amore vero passa attraverso la croce Il sacrificio, come per Gesù La croce è il passaggio obbligato Ma non è la meta È un passaggio La meta è la gloria Come ci mostra la Pasqua E qui ci viene in aiuto Un'altra immagine bellissima Che Gesù ha lasciato ai discepoli Durante l'ultima cena Dice La donna Quando partorisce È nel dolore Perché è venuta la sovra Ma Quando ha dato alla luce il bambino Non si ricorda più della sofferenza Per la gioia che è venuto al mondo un uomo Ecco Donare la vita Non possederla E questo È quanto fanno le mamme Danno un'altra vita Soffrono Ma poi Sono gioiose Felici perché Hanno dato alla luce un'altra vita Dà gioia L'amore Dà alla luce la vita E dà persino senso al dolore L'amore È il motore che fa andare avanti la nostra speranza Lo ripeto L'amore È il motore Che fa andare avanti la nostra speranza E ognuno di noi può domandarsi Amo? Ho imparato ad amare? Imparo tutti i giorni ad amare di più? Perché l'amore È il motore Che fa andare avanti la nostra speranza